Non vi dico la classifica, questi sono solo i tre selezionati. Chiamiamo sul rinno onore il barbone Grandemole, che è uno dei tre. Il Blackhawk, li chiamo in ordine di altezza. E qui ce n'è ancora un piccolo del Bassotto, a quello duro. Fermi lì. Abbiamo il tempo al Bassotto di poter, con le sue zampette corte, raggiungerci. Ed ora, mentre farete un giro del ring, io vi dico su che podio posizionarvi. Pronti? Via! Su quegli applausi. Terzo classificato. Il Blackhawk, terzo classificato. Secondo classificato. Il Bassotto è un vince il Best in Shea, il carbone Grandemole Nero. Le persone vengono premiate con questi ospetti di ceramica di ruta e con l'omaggio le fiori di Sanremo. Nostro emblema in tutto il mondo. Abbiamo parlato di soggetti giovani e subito ora riprenderemo con il Bass in Shea dei soggetti adulti. Questi sono soggetti che vanno dai 9 ai 18 mesi, o meglio, sono rimasti nella fornice tra i 9 e i 18 mesi durante la raccolta dei punteggi. Arrivati qua potrebbero anche aver passato i 18 mesi. Foto di Vito. Un tempo andavano a sopornare i nostri cani il mese dopo. Oggi staranno già ribalzando attraverso il sito e il chiamo nell'ordine. Pronti per le prevenzioni? Il terzo classificato è il Bass in Town. Secondo classificato è il Chihuahua. E lì c'è il Best in Show, il Coker Spagna Lunguese. Attendiamo il Chihuahua. Secondo classificato è il Coker che va su un po' di più alto. Eccolo qua, questo cane in taglia medio piccola, il più bel cane dell'anno 2015. E mentre noi siamo qui, in giro per l'Italia, si stanno già preparando lo finalissime per il Totò 2016. Che chissà, magari tornerà qui. Carissimi, grazie a tutti per aver partecipato e arrivederci a presto con tanta amicizia cinofila. a presto con tanta amicizia cinofila. A presto con tanta amicizia cinofila.